Oggi andiamo a leggere la storia di un'ape. L'ape Tina e la primavera. È mattina. L'ape Tina si sveglia. È freddo. Ci sono le nuvole e tira vento. L'ape Tina vede gli alberi, senza foglie. L'ape Tina vede pochi fiori. È notte. L'ape Tina torna a casa. L'ape Tina dorme tanti giorni. È mattina. L'ape Tina si sveglia. È caldo. C'è il sole. L'ape Tina vede gli alberi con tante foglie. L'ape Tina vede tanti fiori. L'ape Tina pensa. Evviva! È primavera! Prendi il tuo quaderno, disegna un'ape e colora di giallo con le ali azzurre. Adesso descrivi il fiore. I petali di che colore sono? Sono rosa oppure azzurri? I petali sono rosa. Le foglie di che colore sono? Sono gialle oppure verdi? Le foglie sono verdi. E il gambo è lungo oppure corto? Il gambo è lungo! A presto! Ciao!